Com'è bello trovare quegli amici che non perdi per tutta la vita Ci troviamo finalmente al Maxi Dancing Settimo Cielo perché siamo arrivati, ormai tra pochissimi giorni prende il via il gran gala del gusto sono in compagnia del team organizzativo del sindaco Enrico Rossi che ormai ha fatto un po' da filo conduttore abbiamo fatto tante puntate, ci siamo divertiti, abbiamo svelato quelli che sono gli ingredienti e oggi finalmente siamo proprio nel cuore della festa Sì, siamo esattamente nel luogo in cui andrà in scena questa grandissima serata spettacolo del 10 novembre Gran gala del gusto, ricordiamo a chi ci ascolta la prenotazione obbligatoria perché sarà una grandissima cena con tutte le pietanze del territorio del territorio dell'areale della DOP Cartoceto con la collaborazione di tutte le proloco di Fano, di Cartoceto, di Saltara, di Serrungarina, di Montbaroccio, di Montemaggiore gli amici dell'associazione Rosciano Insieme poi soprattutto sarà una grandissima serata di spettacolo con le orchestre prime fra tutti ovviamente le ciliegine sulla torta, la grande orchestra a casa dei e il diavolo all'acqua santa sarà una serata di ritmo dalle ore 20 di sabato 10 novembre fino alla tarda notte dell'11 che ricordiamo essere San Martino e per questo ci sarà anche una grandissima sorpresa A proposito di San Martino, seguite fino alla fine questo speciale perché poi sveleremo un altro dietro le quinte di questa festa è già prontissimo, è stato invasa un po' tutto il territorio di questi flyer di queste locandine perché insomma tutti vogliono partecipare a questo gran galà ma oggi andiamo a svelare chi è un po' il patron che ci ospita Soprattutto portiamo il materiale pubblicitario proprio al settimo cielo che è la location opportuna dove si svolgerà il grande galà del gusto A proposito di Maxi Dancing Settimo Cielo seguiteci perché andiamo a conoscere appunto il padrone di casa Eccoci qua all'interno del Maxi Dancing Settimo Cielo e vedo arrivare Carlo Pierdi Luca a piacere ecco il proprietario, il titolare del Settimo Cielo Ecco qua allora caro Carlo in tanti conoscono il Settimo Cielo ma per chi ancora non conoscesse siamo arrivati con le nostre telecamere per far vedere anche proprio a tutti quanti dal proprio idone di casa la vastità di questa grande sala e ti chiediamo così l'ok per far vedere a tutti quanti Benissimo signori prego bene andiamo insieme anche con le nostre telecamere Siamo saliti sul palco del Settimo Cielo come si vede alle nostre spalle e andiamo con la consegna ufficiale del materiale pubblicitario dalle mani del sindaco e di tutto il comitato organizzatore è un modo proprio per raccogliere ufficialmente questo grangala del gusto ormai ci siamo mancano pochi giorni caro sindaco ma già si sente tantissimo fermento nell'aria ma devo dire che è una serata che sicuramente catturerà l'interesse, l'attenzione e stravolgerà anche quello che sarà il divertimento della serata per tutti i partecipanti la location d'altronde merita di partecipare a questa grandissima serata di gusto e di spettacolo ecco a proposito di location sicuramente in tanti si chiederanno ma quale sarà il punto di vista di Mirko Casadei su questo palco perché è un qualcosa di incredibile allora noi ci giriamo e ve lo facciamo vedere anche a voi da casa perché questo è il punto di vista dell'orchestra Casadei il 10 novembre qua al settimo cielo ma al di là del punto di vista è anche bene entrare un po' nel concreto di quella che sarà la festa proprio degli ingredienti ufficiali a proposito proprio di ingredienti e di gusto la cena come sarà? diciamo che la cena è un po' passeggiare su tutto il nostro territorio appunto grazie alle proloco che vi accoglieranno proprio nel balcone d'ingresso con tante specialità iniziando dalla bruschetta con l'olio un po' di formaggio, un po' di miele e tante altre sorprese perché se vi dico tutto siamo finiti e poi la cucina, il grande chef del settimo cielo cosa ci preparerà? vi anticipo solo una cosa vi dico Vinci Sgrassi che è la specialità di cartoceto preparato a mano, ci tengo a dirlo a seguire un risotto e soprattutto il secondo non poteva mancare il coniglio alla cartocetana tra parentesi da noi conosciuto anche come coniglio in porchetta poi abbiamo chiesto a Carlo, al proprietario se convince lo chef a prepararci salsicce con le olive visto che parliamo della festa appunto dell'olio e dell'oliva qua a cartoceto e un dolcetto sicuramente non mancherà e... sempre tutto no ma Nino tanto bisogna dirlo a questa gente bisogna dirlo ma non si può svelare non si può svelare tutto quanto allora siccome me la fanno lunga vi ricordo poi che dopo il 10 scatta l'11 siamo arrivati già l'11 di novembre San Martino e ogni botte diventa vino ecco a questo punto io fermo questo momento perché dobbiamo spostarci perché a proposito di San Martino ogni botte diventa vino dopo mezzanotte si cambierà anche location cosa dite? la facciamo vedere ai nostri telespettatori? sveliamo anche questo piccolo particolare? allora un momento prima vi voglio dire una cosa adesso noi guardiamo questa immensa platea di divani provate a pensare che al posto di quei divani noi avremo 600 posti con tutti i tavoli rotondi con delle bellissime tovaglie proprio per accogliere questo vastissimo pubblico che sta prenotando quindi è molto importante l'ingresso è a prenotazione obbligatoria sia per la cena che per il ballo che per il divertimento che per lo spettacolo si inizia alle 20 e la prenotazione la dovete fare attraverso le nostre proloco quindi guardate bene il fine spot dove troverete tutti gli indirizzi potete anche chiamare a Carlo del Settimo Cielo tutta l'operazione, tutta la serata costa solo 35 euro ripeto, approfittate velocemente a ritirare il vostro biglietto, il vostro coupon d'ingresso perché stanno andando a ruba ecco, ricordiamo naturalmente un piccolo particolare che abbiamo visto nei primi speciali l'orchestra Mirko Casadei la grande band acrobatica Matti naturalmente l'abbiamo visto anche nel nostro speciale il Diavolo e l'Acqua Santa con un doppio palco insomma, gli ingredienti li abbiamo detti tanti ma ancora c'è rimasto un piccolo particolare e spostiamoci di location e concludiamo così posso ancora aggiungere qualcosa il Diavolo e l'Acqua Santa il palco sarà qui alla mia destra se volete ma poi ci sarà un bellissimo allestimento grazie a Ultrasound Eventi con minimo tre maxi schermi dove potrete vedere in live tutta la serata e non solo ecco, a questo momento sono partite già sicuramente le telefonate e le prenotazioni perché da casa, insomma dopo tutti questi ingredienti e dopo tutte queste cose svelate sicuramente viene voglia di prenotarsi se non l'avete ancora fatto pochi secondi ci spostiamo di location e andiamo a svelarvi l'ultima chicca vi avevamo promesso una location diversa e particolare per la sorpresa del dopo mezzanotte ed eccoci qua dove succederà non al termine perché dopo mezzanotte ancora sarà proprio il fulcro della festa un'altra sorpresa per tutti i partecipanti certo, diciamo anzi più verso l'una ci trasferiremo proprio in questa zona provate a pensare l'una con gli effetti luce che solo qui al settimo cielo potete trovare poi lo staff del settimo cielo ci preparerà in diretta le calde arroste proprio belle calde e un buonissimo vino novello appunto per festeggiare San Martino che ogni botte diventa vino mentre il diavolo e l'acqua santa entreranno nel vivo della serata perché? perché proprio nella nostra zona ma poi mi hanno detto non solo nella nostra zona si estende quasi in tutta Italia che San Martino è anche la festa non so se si può dire per televisione comunque dei cornuti l'abbiamo detto quindi quindi anche noi andremo avanti con tantissime sorprese fino all'alba tranquilli chi è abituato a venire alle nostre feste sa di che cosa dico allora vi ricordo ancora una volta mi raccomando andate dalla vostra Proloco più vicina a Fano noi e a Rosciano insieme ormai conoscete dove è la sede e qui al settimo cielo a prenotare il vostro posto in prima fila a questa gran serata del gusto e soprattutto per gustare il gusto che il ristorante settimo cielo ci ha preparato come vi ho ricordato l'accoglienza con le prelibatezze delle nostre Proloco a seguire vinci e sgrassi risotto cosciotto al forno salsiccia con olive e coniglio alla cartocetana e che dire contorni dolce dolcetti e non finisce qui perché poi proseguiremo insieme Diavolo e Acqua Santa la grande orchestra di Casa Dei beh insomma direi che non ci siamo fatti mancare niente tutto compreso a 35 euro vi aspetto tutti ecco dopo questo grande spot e video messaggio che ha richiamato un po' tutti quelli che sono gli ingredienti di questo Gran Gala del Gusto l'ultima domanda va al sindaco perché è vero che c'è la grande festa del Gran Gala del Gusto ma è all'interno di un evento importante sì è bene ricordare che il Gran Gala del Gusto di sabato 10 novembre è all'interno del contenitore di Cartoceto dopo il festival la 42esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva che quest'anno si terrà a Cartoceto nelle prime due domeniche di novembre il 4 e l'11 per l'appunto questa è un'ulteriore ciliegina sulla torta che quest'anno abbiamo voluto aggiungere al contenitore del festival che è stato completamente rivisitato come format dal 2014 e devo dire grazie alla collaborazione di tutte le proloco che ricadono all'interno della reale della DOP Cartoceto le cito perché le voglio ringraziare pubblicamente la proloco di Cartoceto ovviamente in testa la proloco di Fano di Monbaroccio di Montemaggiore di Serungarina di Saltare così come gli amici dell'associazione Rosciani Insieme tra l'altro tutte le associazioni di tutto il proloco nelle quali come dicevamo prima potete prenotare il biglietto per la serata spettacolo del Gran Galà del Gusto di sabato 10 novembre abbiamo appunto voluto aggiungere questo nuovo format di gusto e di spettacolo ecco noi abbiamo svelato con questi speciali un po' tutti quelli che sono gli ingredienti ma poi per gustarlo e vivere al più tutte quelle che saranno le ulteriori sorprese che non abbiamo potuto svelare bisogna venire qua sabato 10 novembre al Maxi Dancing Settimo Cielo noi ringraziamo per l'ospedalità il patron Carlo che sicuramente vi aspetta quella sera con tutto il suo staff permettetevi di aggiungere una cosa è molto importante prendere il biglietto e la prenotazione prima perché altrimenti quella sera non si entra al Settimo Cielo chiaro eh? ecco questo è un consiglio per tutti quelli che ancora non hanno preso la prenotazione concludiamo tutti quanti con un grande vi aspettiamo perché ormai ci siamo mancano pochi giorni al 3 1 2 3 vi aspettiamo ciao 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 mare è l'orilla della playa con tu amori con tu spessos il vento cancella danza di ricordi ma dal cuore no il vento non